Si accende il dibattito, come ogni anno in Regione, sull'approvazione del bilancio di provisione della Regione Abruzzo, che sarà votato nella prossima seduta del 29 dicembre. Interviene la consigliera pentastellata Sara Marcozzi, che parla di mancanza di trasparenza sul bilancio regionale, in quanto dice ad un anno e mezzo dall'insediamento del Consiglio non sono state ancora consegnate ai consiglieri credenziali di accesso e password personale al sistema informativo contabile in dotazione agli uffici finanziari del Consiglio, grazie al quale ogni consigliere, spiega la Marcozzi, sarebbe in grado di accedere autonomamente alle informazioni relative alla capienza dei capitoli di bilancio e alle disponibilità stanziate. Nel sottolineare che è il secondo anno consecutivo che i consiglieri vengono chiamati ad approvare bilancio e legge finanziaria della Regione Abruzzo completamente al buio, il Movimento 5 Stelle afferma che le segnalazioni in questo senso fatte già prima dell'approvazione dello scorso anno sono rimaste sempre inascoltate, nell'indifferenza generale del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e del Direttore Generale della Regione Abruzzo.